Una legge perfetta. Ho letto che l'idealismo dell'acquario è reso più concreto e pratico se aiuta gli scorpioni a raggiungere importanti risultati. Che c'è di vero? Commento. C'è una fragile tendenza alla realtà. Perché fragile? Perché essendo divina, la legge di reincarnazione obbidisce ad una legge perfetta, che corrisponde poco ad un calcolo umano. Se usiamo la similitudine dell'autostrada, gli svincoli sono i segni astrologici che selezionano l'entità che, avendo evoluzione analoga, devono avere incarnazioni analoghe. Allora gli svincoli, i segni astrologici, uniscono e immettono nell'autostrada, nel fiume della vita fisica, le entità che si devono incarnare ed avere esperienze analoghe.